There's no place I'd rather be 5, 4, 3, 2, 1 Ehi a tutti ragazzi, oggi siamo qui tornati con una nuovissima parodia parodiosa di La nuova Ariana Grande ragazzi Il ritorno, il ritorno della nuova Ariana Grande ragazzi Nel 2017 abbiamo trovato la seconda Ariana Grande nel mondo Scusatemi ragazzi, me l'ho dimenticata di mettermi gli anelli Ok Per questo video ragazzi mi raccomando razziamo i quiz like e niente, cominciamo Zia, ti dovresti mettere un po' di eyeliner sai perché non si vede tanto Ne ho messo veramente veramente poco Questa ragazzi sono proprio io in macchina che canto le canzoni in inglese Non sapendo il testo però Almeno ci provo come ha fatto lei Oh però la voce c'è sta eh La voce c'è sta Ok le parole un po' meno eh Però torniamo al discorso che la voce c'è sta No 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 Allora questo non è in inglese Nè italiano Nè qualsiasi altra lingua Questa è la lingua sua Questa è la lingua sua e basta Mi rimangio quello che ho detto Non ce sta né il testo E né la voce Proprio No Raga ma in sottofondo che si senti il batterista che ha preso una bella padella Ha cominciato a sbattere sopra un bel cucchiaio Amma mia Che paura Cioè ragazzi è spaccato il collo a fa sta cosa però Ragazzi sto cercando di capire quello che sta dicendo ma No non ci riesco No No e basta Ragazzi vedete di insegnare questa po' in inglese Ma la cosa che mi ha preferito di più è che sta ragazza è tutta compita Proprio ah si dai sono brava Su alcune intonazioni ci sta pure su alcune note Però tipo quando ti fai la cutie No Anche sul testo no Però del resto è brava Ma tipo scegli una canzone la lingua sua Tanto di figlio No poi facciamo Arianna Capito A ritagliare il collo che si è spezzato Raga mi hai bisogno di spiegare cos'è like ta Sti parole sono lei Solo lei Solo lei Durmi No 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 Questo mi sto a far morire Cioè almeno ritornerlo no Allora quello in palo Non mi fai dire this is the butter Cioè mi fai tirare il burro Che tipo Raga ma Che bel rossetto c'ha Cioè per me l'unica cosa è bella in questo video A parte che lei è carina come ragazza Però con l'eyeliner Un pochino più piccolino lo poteva fare Poi mi veniva a commentare a me Che mi metto un filo d'eyeliner Cioè guarda questa Perché mi metto un filo d'eyeliner This is the butter The butter The butter The butter The butter No no butter Ragazzi Questo era il tipico suono Di una gallina Strozzata Va bene Questo era il tipico suono Di una gallina Che la stanno soffocando La stanno uccidendo It's not that no more It's not that no more Ecco Così è finita questa Oscenità Comunque ragazzi Questa fordina Ha veramente tanto tanto fatto ride Quindi lasciate un bel like Potete sapere qui sotto nei commenti Cosa ne pensate La nuova Ariana Grande Che abbiamo qui in circolazione E niente Vi lascio qui sotto in descrizione Tutti quanti il link Per stalkerarmi Poi se ne sono iscritti 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 Di un altro più belli E niente già Ciao signori Ciao belli Ciao The butter And the water A fallen man with no escape It seems to live in yesterday